come modello in altre operazioni. Ingegner Petruzzi, un grande progetto metropolitano, a otto minuti di treno da Torino, una ricaduta su un territorio che si sta preparando per integrare il campus nella città. Sì, certo, l'obiettivo è proprio quello. Innanzitutto la collocazione geografica favorisce l'integrazione con tutto il territorio, perché abbiamo la metropolitana a 800 metri di distanza più la ferrovia che sarà integrata, proprio la stazione ferroviaria, all'interno del campus. Ovviamente questo consentirà di fruire soprattutto ai torinesi, cioè sono tanti torinesi, non solo, dall'Italia, tutti gli studenti universitari che sono anche stranieri graviteranno su Grugliasco e beneficeranno quindi di questa infrastruttura, quindi effettivamente la scala è una scala molto più ampia. Così come per quanto riguarda le imprese e le aziende che saranno poi interessate a usufruire dei laboratori che si costruiranno e dello sviluppo della ricerca, avranno anche loro una situazione facilitata proprio dalla collocazione di questo progetto. Una fonte di orgoglio per l'università, questa progettualità? Assolutamente sì, io sono arrivato nel 2016, quindi devo dire che è sicuramente una delle operazioni più importanti in Italia in questo momento anche a livello economico e non solo, quindi sicuramente è un progetto molto ambizioso, si spera poi che le ricadute siano pari allo sforzo fatto.